Nuove opportunità di formazione e inserimento lavorativo. A partire da ottobre Palazzo Marcolini a Fanno ospiterà un corso ITS per tecnico per le infrastrutture ed impianti tra progetti complessi e transizione ecologica. Corso organizzato dalle aziende Arco, Comis, Renco, Rina, Saipem e Tecfem e coordinato da Confindustria Peso Rubino e dalla fondazione ITS Academy. Il nostro ITS, la nostra fondazione che probabilmente è stato il primo ITS nelle Marche, crede molto in questa collaborazione tra le aziende e appunto la formazione perché i ragazzi avranno l'opportunità di fare una formazione d'eccellenza proprio al fianco delle aziende che hanno bisogno di questo tipo di figura. Un programma di studi di due anni per 1800 ore di lezioni concepito per preparare giovani tecnici che saranno pronti a lavorare nelle imprese specializzate in ingegneria e costruzioni di grandi opere. Corso che risponde alle esigenze emersi da parte delle imprese che necessitano di figure altamente qualificate e di difficile reperimento. Un corso di formazione che si rivolge a tutti i ragazzi che escono dal percorso di studi superiore e che vogliono approfondire un settore come quello delle infrastrutture energetiche nel quale appunto le aziende, gran parte delle aziende del gruppo energia e transizione ecologica del quale sono presidente in Confindustria Peso Urbino si rivolgono. Quindi materie che rasentano appunto una formazione ingegneristica di base, tecnica comunque legata al mondo della produzione, del trasporto, stoccaggio e gestione quindi dell'energia e dei vettori energetici. Questi ragazzi riceveranno un attestato che è riconosciuto dal Ministero, saranno appunto tecnici superiori per le infrastrutture nella meccatronica. Probabilmente ci aspettiamo che molti di loro troveranno impiego molto presto perché lo dimostrano le percentuali che la nostra fondazione ha di impiego e saranno senz'altro immagino considerati tecnici d'eccellenza proprio perché il tipo di formazione che miriamo a fare è quello e lo facciamo con dei partner d'eccellenza appunto.